Giovedì presso il tribunale di New York si sono tenute le arringhe conclusive del processo per frode a carico di Donald Trump. Una seduta accesa che ha visto il tycoon attaccare la procuratrice generale dello stato di New York Leticia James. L'ex presidente ha definito l'intera vicenda una caccia alle streghe politica. È una frode nei miei confronti, ha detto Trump. Il discorso infocato di Trump è durato più del previsto. Il giudice Arthur Hengor ha dovuto interromperlo. L'ex presidente è anche attaccato alla procuratrice generale che a sua volta si è difesa dalle sue accuse. Le società di Trump sono accusate di aver emesso falsi bilanci dal 2011 al 2021, sovrastimando di fatto il valore delle attività. L'accusa ha chiesto un risarcimento di 370 milioni di dollari e il divieto per tutta la vita di svolgere attività immobiliari nello stato di New York. La sentenza è attesa entro il prossimo 31 gennaio.